molto meglio al 6 contro l'era tu dillo al giapponese come si conosce quello no sei a... 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 è attaccato, stacco che cazzo capito c'è... c'è... no, figa l'acqua non abbiamo la cifra in seno d'oltre mi diventi non posso pressare che mi sono attaccato con la calza di pizza figa la pizza col sale cos'hai preso le acciure? a alberi ma qui che l'ordine l'arrivo l'arrivo vedi quando la porta la testa non mi sa male se sbagliarono ah no, fai duecento gallema in the game ma poi non so come è coniglio puoi incarmarlo da tutto il tuo bacio con un rialzo braccio? si infatti mi sono scolato a canna per i 2 litri dai, siamo là con il sistema ah no poi quando inizia fa finita di sfruttarti dai, dai, dai ma inizia fa finita dai, dai con la batteria ti fermo tutti i pazienti di te no, no ah, senti, c'hai malattie in città no ora, ci porta qua l'acqua e l'acqua ah, voglio non c'è il mio mio adesso? no a parte di Ernest ahahah ma secondo te il 2,2k si fa? si si e tra i bassi visili puoi entrare ogni tanto e te li passi visili ma che male quella roba non c'è il mio mio città non c'è il mio mio città non c'è il mio città non c'è il mio città io quello di Eman me lo prendo sempre il mio 1-1k si può vedere io il mio 1-1k me lo prendo sempre ci sono i giorni in cui lo vedo tipo 5 volte di sedito ci sono i giorni in cui me lo becco cinque volte il mio 1-1k me lo son preso sempre no no, vero Dio però in giocchiato da qua becca molto spesso quello di Yastrof non traccia e non becca e devi dire si sta calando Eman è un personaggio che ti conosce un ghiacciolone mi vuoi fare con Max se lui è con l'italiano non mi piace e allora ha un tempo limitato perchè stava cambiando un personaggio il caso è stato bucacchiettato da un Max che non gli è pezzuta no, è un Max si, ci sta ci sta ci sta è stata Ilde la sua presenza del mio ecco abbiamo scoperto che Ilde è è anche un personaggio in fondo no, lo sapevo però il video di quel tizio gli bastava guardare il suo fatto roba così al fatto che è stato strano vedere quei video di quella Ilde di dire guarda c'è un tizio davvero bravo con questa Ilde e poi trovare il mondo il mio no è l'altra parte del mondo indietro e vedere come si veste eh? è quella lifter ti sta scoprendo male sei Catania sai che viene zingato la vita lui? l'aeroporto oh oh no no tracking schieto questo è che l'hai volato fuori? è la salvare si oh 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 la rabbia oh oh luvolo i non no domenica we non ma ma c 2 settimane 3 2 settimane 3 2 settimane scusa il freno troppo forte non ti preoccupare io ho non è così io di più volevo ti riporti l'elecchio no, saltato le meni sto raggiungendo più carattere ma voleva gli altri che fare a posto no che spese a varie miei questi vedi no che fai che io sono non è che c'è i soldi vedi la prende vedi la prende prende quasi 800 100 a 800 spendi 1000 da andare al lavoro no sai che se non mi pagasse il mensile del treno mio padre 3 no inoltre a pailletta perchè il treno? quando il treno? il treno? 15 km Il mio nome non mi manda a sbagliare I caos Mi sono tutti fortunati di avere il lavoro ben pagato Ha dovuto togliersi tutti i vizi Non può più comprare un po' di nero e stai figati E' da zero caramelle Può prendere un gelato al mese Quello che mi compro da McDonald's La pallina sua Picchia la testezza di Torino No, una pallina sulla la manina Ti sarà anche un cioccolato sul po' Questa cialda Mi faccio andare anche tutto bagnole Questa cialda No, fai Con le lacrime e la tristezza Tristezza mascolina però Mi spiace Vabbè il taglio sulle caramelle è un legno Taglio sulle caramelle è cistante No, non cistante No, mi devi prendere Basta che non le compri qua E' ciapposo 3,80 al letto 3 mesi di biglietti da 3 Ma non usiamo mai giù a più di commerci Non so Faci male Invece l'ho usato l'ho usato Ma che io voglio fare l'ho usato No, no, tra l'ho usato Che malissimo qua Alla parte con la mano Alla parte con la mano Si, si Stai beccando lì ma Perché non l'ho usato? Ma mai che non bascerà la tristezza? Vabbè, biglietti, peccato Mi ha ammazzato, mi ha ammazzato il fan Stai beccato 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 il fan Ehm, dopo Andiamo al pubblicano C'è la gioca di salvare Oh Oh Han detto che Quando vi è qui Cioè, sapete giocare contro Aspen? Ma tu ci giochi contro gli altri? Contro Aspen Contro Aspen Contro Pino pochissimo Che comunque lui è di Palermo Quindi La stessa online? No, no, no Non ho No, online no Perché loro sono su Playstation Ah, mica che newbie Ma perchè non gli are? Gli devono giocare su Playstation, cazzo Quando fa? Ah, ah, ah Perché si scopre di mille frame Qua no? Ah, ah Che si scopre Sì 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 Ma lui è mutante per farmi Già sguardo No, non voglio scimilare proprio M***a che è un bel genere Sì Vi dovete mandare o hinna con il bastllo No lo medi vi dovete fare Spermue Guardalo è capace di annoiassi tutto le due precisioni non mi sono riusciti attraverso l'inizio su calvinca ancora il cartellismo la comando vabbè adesso si è alzato basso bravo l'ho visto giusto e poi non poteva neanche il cazzo che triste prima del cacciovaccio ma che prima? quando hai fatto il cacciovaccio io non per cazzo sta cosa però le sei catane basta devi realizzare no non era quello ma poi fai la telecronica live della partita lì ma il cuore ma non c'è gusto è scarso è scarso e sportivo è scarso e sportivo guarda come va a vuoto che diavolo quindi 6 non pulisce il posto ma fa bene ma qua come sta registrando qualche partito no questa è il diritto la posizione è roba da nubi ragazzi no quella di 6 non c'era più di moda non c'era più di moda no vabbè vabbè del basso dei ciri vabbè vabbè una partita di 6 è molto varia fa sempre una mossa e ogni tanto fa anche la stessa guardalo la tecnica sopra piena ha rullato perchè ha tenuto la guardia rossa non c'è con il gioco 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 eh no non stare per terra e vabbè mc! no mi ha preso uno ti alzi enjoy mc che male che ci fanno poi ne hai vinto uno Non ho capito un po' è negro di merda Bello Oggi è così che vado in finale musa senza giocare la fattura E' vero non mi chiamavano più E' vero non mi chiamavano più E' vero non mi fai preso tre buy Ma che giochi In caso li ho scoperto Babbi di mica sono quello che è arrivato più lontano Ma non è vero E' vero non mi chiamavano più Ma ti hai preso con Satna? Ma all'inizio Sei trovato con un seppia Permesso Ma che ne volete? Guarda ti vedo se ti basso e ti mando i peccati Ma lì c'hanno ancora la GI? Stai facendo ancora la GI che ha dal pugno? Eh si Basta che tu sei dietro di me ti faccio Mi sembra sia meglio no? Si si Mi da fastidio prendere questi latte Qual'è questo? Ho staccato un po' Ovviamente Ho staccato un po' Ho staccato un po' Ho staccato un po' Ma ti ricordi? Non hai mai guardato un ragionato? Mamma mia Veeeeee Mi cazzo di mozza Mi sta Stam 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 Ma come è che Mi cazzo di mozza Ma come è un po' Ma come è un po' No, 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 no Mi cazzo sta cazzo E' un virwolf tipo Ok, dai lato E' un virwolf Nel virwolf Nel virwolf Nel virwolf Nel virwolf Nel virwolf Nel virgol C'è il capone e stupralo Basta, sì In queste Interrompo, per registrare Evita un'altra nemminica Ma come? A round Hai due C E' un po' Non è un po' io sono al posto forna, aspetta un run stai giocando contro l'epa colui che si è fatto tauntare per 40 secondi senza reagire dai io hai capito che scimmia sempre?